Tessuto o non tessuto? TNT? Velo da sposa? Velo invernale? Quanti ne esistono? A cosa servono? Ma soprattutto quante domande ho fatto? Parliamo di velo da sposa. Ciao a tutti, sono Marco di Fanshop, Fanshop che è l'e-commerce di rete plastica. Scusate l'intro. Allora, oggi come avrete ben capito parliamo di velo da sposa. Chiamatelo come volete, io lo chiamerò così. E soprattutto quali sono i suoi utilizzi principali. Partiamo subito. Iniziamo nel dire che cos'è un velo da sposa. Il velo da sposa è un tessuto che va a proteggere dai primi freddi o dalle gelate improvvise, cosa? Tutte le piante, i fiori, gli ortaggi, insomma tutto ciò che è vegetativo e sta all'esterno. Vi sarà già probabilmente capitato che una pianta muoia per colpa di un'improvvisa gelata. Bene, vi racconto solo questo. Mio padre ogni anno mi stressa per mettere a sosta i suoi limoni in vaso e metterci attorno appunto il velo da sposa. Quali caratteristiche hanno? Beh, sono leggerissimi, sono traspiranti, filtrano, fanno passare la luce, proteggono da insetti e aiutano lo sviluppo vegetativo della pianta in un periodo non propriamente consono. Quanti tipi ne esistono? Beh, un sacco di tipi per forma, per dimensione e soprattutto per grammatura a metro quadro. La grammatura a metro quadro va a indicare quello che è lo spessore e quindi il grado di copertura della coperta, quanto protegge. Che formato ha il velo da sposa? Può avere formato a rotoli interi, a pezzature confezionate singolarmente, a tubo, a tubo tagliato a metro, a tubo con la zip, insomma il mondo è veramente infinito. Adesso vi parlerò dei tre modelli che abbiamo deciso di tenere noi, perché riteniamo i più appetibili per il mercato. Vediamoli subito. Allora, come vi dicevo, noi abbiamo deciso, essendo rivenditori Tenex, di tenere appunto il prodotto della Tenex che si chiama Orto Clima. Di questo Orto Clima e di questa famiglia teniamo tre tipologie, come vi spiegavo prima. Partiamo dalla prima che si chiama Orto Clima e basta. Cosa è questo telo? È un telo che pesa 17 grammi a metro quadro e cosa serve? Serve prevalentemente per la protezione leggera tra i primi freddi invernali e gli ultimi, quindi tanto per capirci nel periodo autunno, diciamo così, e fine inverno, inizio primavera. Non è un telo adatto sicuramente per i grandi freddi. Cosa va a proteggere? Le piantine, ad esempio come l'insalata o le fragole. Dimenticavo, favorisce la germinazione e anticipa un po' il raccolto. Secondo prodotto salendo di gamma, quindi Orto Clima Plus. È un telo che pesa 30 grammi a metro quadro, quindi già doppio rispetto a quello che ho detto prima, ed è un telo già a tutti gli effetti invernale, adatto per proteggere dai freddi, dai colpi di vento, e nonostante il suo peso, il suo spessore è traspirante. E cosa ci si può coprire con questo telo? Si può andare a coprire piante, ad esempio da frutto, per proteggere le parti più delicate, messe a sosta magari durante l'inverno, ad esempio come i limoni che dicevo prima di mio padre. Ultimo prodotto della gamma, l'Orto Clima Extra. Parliamo di 60 grammi a metro quadro, quindi un super telo, super robusto, nonostante tutto traspirante. Questo per i grandi freddi, per proteggere piante aromatiche, fiori in vaso lasciati fuori magari. Quindi per chi ha problemi di grande freddo, beh sicuramente un telo del genere è un super telo. Pose in opera, come si posa un telo così? C'è poco da dire, è semplicissimo. La prima cosa che mi viene in mente sono dei picchetti nel terreno, ad esempio come questi, faremo un video specifico sui picchetti, può essere arrotolato come una sciarpa attorno alla pianta, tanto per capirci, ci giriamo attorno, magari anche due o tre giri non fanno male. Se sono sacchetti li infiliremo come un calzino, insomma la posa è veramente ridicola, anche perché stiamo parlando di un telo molto leggero, quindi molto facile da lavorare. Prima di andare avanti con questo video però vi ricordo di iscrivervi al canale. Cosa vi posso ancora dire per chiudere questo video riguardo questo prodotto? Beh per me è un ottimo prodotto, è facile da posare, l'ho detto prima, è un prodotto economico ed è un prodotto che serve soprattutto. Io credo che tutti quelli che abbiano un minimo di passione per il verde debbano avere in cantina a sosta un pezzo di telo, un livello da sposo. Non ingombra e ripeto è facile, economico, all'occorrenza d'inverno o ai primi ferrendi si tira fuori e si posa facilmente. Vi lascio in descrizione un link al sito dell'Atenas, che è l'azienda produttrice di questo telo, dove fa un approfondimento su questo telo appunto in base all'applicazione, al tipo di pianta. È molto molto interessante per chi è appassionato, andatevelo a vedere. Questo breve video termina qui, spero di avervi dato qualche informazione in più rispetto al velo da sposa che magari non tutti conoscono. Vi ricordo però di iscrivervi al canale ancora una volta, di visitare i nostri siti www.reteplastic.it e www.fanshop.eu, dove all'interno potrete trovare queste tre tipologie di velo da sposa che vi ho descritto. Ripeto, queste sono quelle che noi abbiamo deciso di tenere, il mondo ne è pieno di tipologie, formati e marche diverse. Vi ricordo anche magari di andare a iscrivervi alla nostra community Facebook, dove all'interno potremo discutere un pochino in modo più personalizzato dei problemi di ognuno di noi, tanto per capirci. A presto e al prossimo video, ciao!